Nella sua relazione... Sportelli di Campania Innovazione all'interno delle sedi delle associazioni degli imprenditori per creare un collegamento diretto tra chi fa ricerca e chi fa impresa. E' questo l'obiettivo dell'intesa siglata ieri a Palazzo Partanna tra Campania Innovazione e Confindustria. Dopo i accordi con le cinque università della Campania, un nuovo passo per avvicinare il mondo della ricerca a quello del lavoro. Lo sottolinea ai nostri microfoni l'assessore regionale Guido Trombetti. Noi costruiamo presso tutte queste sedi dell'Unione Industriale e anche di Camera di Commercia gli sportelli, dei luoghi dove piccole e medie imprese potrebbero trovare assistenza, informazioni, faciliti per tutto quanto dovesse essere loro necessario. Il principio ispiratore della rete dell'innovazione è che da solo non ce la fa nessuno. Le università, le Camere di Commercio, le Unioni Industriali formano invece una massa critica di dimensione regionale che consente di passare dal mondo della ricerca al mondo della piccola e medie imprese. Gli sportelli presenti nelle sedi Confindustriali forniranno agli imprenditori dei servizi standard e anche dei servizi on demand. Una rete che costituisce un passo concreto per le piccole e medie imprese ha sottolineato il presidente degli industriali di Napoli Paolo Graziano e che permetterà agli imprenditori di poter colloquiare direttamente con il mondo accademico.